Terribile tragedia in Brasile che ha causato centinaia di morti. Rocco nella discoteca Kiss di Santa Maria, nello stato di Rio Grande do Sul, a circa 300 km da Porto Alegre in Brasile, con almeno 230 morti, un bilancio che potrebbe addirittura aumentare. Dei fuochi d'artificio utilizzati per lo show musicale e pirotecnico del cantante che si esibiva sul palco hanno colpito il soffitto interno della discoteca, causando velocemente l'inferno. La folla spaventata ha iniziato a scappare, le persone cadute a terra calpestate. La discoteca era colma di ragazzi e si pensa anche alla presenza di italiani tra le vittime. Anche il fumo propagandosi con le fiamme può aver causato la morte per asfissia di alcuni giovani studenti. Si tratta di una delle più gravi tragedie che riguardano discoteche. Il presidente del Brasile, Dilma Rousseff, è tornata immediatamente dal Cile per seguire più da vicino questa tragica vicenda.